Ciao, sono Valerio Novara. Oggi vi vorrei parlare di Lidia Poet, una miniserie in sei puntate che sta su Netflix e che ha scatenato diverse polemiche da quando è uscita, nonostante sia una delle serie più viste di questo periodo. Diciamo subito che la serie parla della prima avvocatessa italiana della storia, appunto Lidia Poet, nella serie interpretata da Matilde De Angelis. Allora, partiamo con fare un piccolo recap di questa serie TV, poi analizziamo un attimo la storia vera che c'è dietro la serie TV e le polemiche che ne sono scaturite in questi giorni. Lidia Poet è una serie che esplora in sei puntate quello che è stato il percorso professionale di una ragazza alla fine del 1800 che voleva a tutti i costi fare la professione dell'avvocato e quindi entrare nell'ordine degli avvocati che era un mondo riservato ai soli uomini. Lei, per tutto l'arco della serie, in ogni puntata c'è un caso da risolvere, quindi è una serie che si basa molto sull'indagine e sull'intuizione di una ragazza che comunque sia di mostra sul campo di avere tutte le carte in regola per fare l'avvocato, ma che si vede contornata da una società maschilista e in particolare da un mondo, quello dell'avvocatura, che era riservato ai soli uomini e che in molti aspetti della serie tv rimarca questo fatto, tu sei donna, non puoi fare questo lavoro, devi avere i tuoi limiti, i tuoi spazi che erano stare dentro casa, accudire i figli, la famiglia, quella mentalità che c'era tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 in Italia, ma in generale, e che vedeva le donne relegate nella società e soprattutto negli uffici pubblici in cui non potevano talvolta neanche entrare. Ci sono diverse frasi, molto brutte, insomma, che dicono alla ragazza quando entra e si presenta come avvocato difensore per difendere delle persone incriminate, dicono ma lei, chi è una parente oppure una prostituta che è venuta a trovare un suo cliente? Lei dice no, sono l'avvocato del personaggio della puntata in questione. Quindi farà molta difficoltà all'interno della serie, una serie che esplora anche la vita privata di Lidia Voet, con questa diatriba tra il giornalista Jacopo Barberis e un altro ragazzo con il quale Lidia si vede nella prima puntata, insomma, si vedeva, avevano una storia anche di passione e entrambi cercheranno di far breccia sul suo cuore, ma lei sarà sempre determinata a portare avanti la sua professione, il suo obiettivo di entrare nell'albo degli avvocati. Una serie, insomma, che è piacevole, è leggera, ho apprezzato molto i costumi, i costumi sono una parte molto importante di questa serie anche perché esplorano una Torino di fine 1800 e in ogni scena, devo dire, è stato fatto un lavorone sui costumi, perché in ogni scena la stessa Matilde De Angelis indossa un vestito diverso e tutti i personaggi, insomma, sono stati ricostruiti e riadattati dei costumi dell'epoca benissimo per questa serie tv. Anche la fotografia ci mostra una Torino bellissima, un'Italia dell'epoca e quindi anche ricostruisce una società che c'era all'epoca attraverso i costumi, la fotografia, i colori, i colori che contornano tutta la vita, sia il chiaroscuro di notte, sia nei delitti e sia nella quotidianità di questa ragazza che lotterà tantissimo contro un sistema. Io, una cosa che mi sono chiesto, ho detto, quanto sarà stato difficile per la prima donna che voleva fare l'avvocato, ma anche le prime donne della storia a voler fare delle professioni che erano a pannaggio di uomini, quanto deve essere stato difficile nella storia prendere il loro posto di diritto e giustamente per merito nella società dell'epoca. La vera storia, e qui passiamo un attimo alla vera storia di Lidia Poet, è vero che lei volle fare l'avvocato e che collaborò con il fratello Enrico, soprattutto durante i primi anni, nei quali si occupò, con il fratello che faceva l'avvocato, nei quali si occupò soprattutto della tutela dei minori e lei si battè spesso per il soffraggio universale, quindi per il diritto di voto alle donne. Le polemiche che sono scaturite da pronipoti di Lidia Poet, che hanno detto è una serie che non c'entra nulla con la vita vera della vera Lidia Poet e che non l'ho nemmeno guardata perché infanga addirittura la figura di questa donna, in realtà io credo che bisogna sempre fare una distinzione. Le fiction, le serie tv, i film si chiamano così apposta e la realtà è tutta un'altra cosa, la realtà è la realtà, i film e le tv romanzano la realtà, quindi prendono spunto da alcune fasi della realtà e in particolare la serie prende spunto da il carattere di Lidia Poet, la sua determinazione nel voler fare l'avvocato in un mondo degli uffici pubblici che era precluso alle donne e tutte le infamie che ha dovuto sopportare e questo è ben tratto nella serie, è ben definito, è ben dettagliato, ma se andiamo a vedere i suoi rapporti d'amore e il fatto che nella serie dice le parolacce, cioè ma a che se vogliamo attaccare? Al fumo dalla pipa? È pur vero che insomma una donna che non ha il diritto di fare sesso non può dire qualche parolaccio ogni tanto, cioè a quell'epoca non si faceva sesso e andiamo su. Nelle serie è pur vero che nella prima puntata per esempio per acchiappare anche un po' lo spettatore si usa utilizzare una scena di sesso per prendere l'attenzione. Però non credo sia stata infangata la figura di Lidia Poet e di una donna che comunque sia, per tutto il percorso che fa dall'inizio alla fine della serie, il messaggio grande che vuole mandare è che il merito la donna se lo va a prendere quando è giusto e per meritocrazia un qualcosa se si è determinati a raggiungere l'obiettivo in un panorama, in un mondo, in un ambiente che era dominato solo da uomini, poi l'abbiamo visto nel corso della storia, quanto è stato poi giusto che anche le donne entrassero in ambienti che all'inizio erano appannaggi solo di uomini, ci sono avvocatesse con due balle così, se dice Roma, e quindi insomma credo che grazie anche alle battaglie di queste donne ci sia stata la possibilità adesso per le donne di comunque avere il loro status quo all'interno della società e in particolare degli uffici pubblici. Faccio una piccola parentesi su questo, nella vita reale di Lidia Poet questo punto è molto simile a quello che viene comunque raccontato nella serie, lei effettivamente studiò giurisprudenza e si laureò entrando nell'ordine degli avvocati questa cosa a fine ottocento durò poco perché il procuratore dell'epoca si attaccò a dei cavilli e insomma si mise contro questa iscrizione all'albo degli avvocati di una donna perché è evidente che all'epoca veniva vista come una cosa molto strana, quindi non c'era e soprattutto non c'era una legge che permetteva alle donne di entrare a professare e a lavorare negli uffici pubblici, ecco perché il procuratore comunque penso anche fomentato da chi aveva intorno si oppose a questa iscrizione, addirittura Lidia Poet continuò a collaborare col fratello e meno male insomma che aveva il fratello che faceva l'avvocato quindi riuscì ad aiutarlo nella serie, ci sono molte intuizioni che provengono da lei e non dal fratello e non dai maschi che fanno capire quanto su tante cose le donne siano avanti e abbiano delle intuizioni importanti anche insomma a livello mentale stanno avanti, l'ho sempre pensato e in alcune figure professionali sono determinanti e lo credo che anche in numerosi altri ambiti possano anche fare meglio degli uomini. Lei dovette aspettare addirittura 65 anni quando lei da grande insomma, da donna più grande negli anni venti del novecento la legge Sacchi permise alle donne di entrare negli uffici pubblici e a quel punto lei aveva 65 anni insomma, ormai era una donna abbastanza grande però comunque si vide realizzato questo sogno, questo obiettivo e venne riscritta all'albo degli avvocati e riuscì anche, visse insomma fino a 94 anni se non sbaglio e dopo la seconda guerra mondiale riuscì anche a vedere il diritto di voto per le donne quindi realizzarsi questo suo obiettivo di vita. Ho trovato questa serie molto piacevole, non è una delle migliori serie che abbia mai visto però insomma ci dice pure che le serie italiane in questo periodo stanno facendo bene. L'interpretazione della Matilde De Angelis lascia un po' il tempo che trova non riesco ancora a inquadrare bene questa attrice è bellissima, ha uno sguardo degli occhi davvero pazzeschi però ho trovato dei, insomma, a livello di recitazione un po' di lacune ancora e secondo me deve ancora dimostrare il suo vero talento anche nel modo di parlare ci sono alcuni momenti in cui non si capisce bene cosa dica perché spesso parla o troppo a bassa voce o si mangia le parole insomma ho trovato alcuni difettucci però insomma è un'attrice che può sicuramente fare strada, è giovane so che anche Robin Williams all'inizio della sua carriera aveva questo problema di dialettica che poi ci ha lavorato e ha migliorato nel corso del tempo una serie leggera che in sei puntate, insomma, si fa ben guardare durano 45 minuti vi consiglio di vederla ditemi nei commenti se vi è piaciuta cosa ne pensate cosa ne pensate di queste polemiche che trovo veramente sterili e penso pure che qualcuno per farsi pubblicità debba sempre, insomma, dire la sua perché se n'era per questa serie ma chi te conosceva, a te pronipote di Lydia Poet detto proprio col cuore quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al nostro canale YouTube c'è appiazione, mi raccomando attivate la campanellina seguiteci su Facebook e Instagram dove ogni giorno postiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV al prossimo video grazie a tutti